amadeus amadeus e sanremo 2022 io non so chi sia amadeus so che è sempre nominato amadeus poi c'è sanremo 2022 la notizia la leggo sul potente quotidiano corriere della sera e tale notizia io ve la metto come link nel riassunto di questo video io non so chi sia amadeus forse amadeus non sa chi sono io io sono questo signore qua vedete nella foto io mi chiamo serafino massoni ho circa 82 anni e opero sulle grandi piattaforme mondiali daily motion e youtube e su youtube ho circa 11 milioni di visualizzazioni benché io abbia quasi 82 anni beh nel passato sono stato professore di filosofia storia nei licei classici e scientifici e poi sono stato pure preside di ruolo preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici queste sono alcune delle mie opere alcune mica tutte per esempio è appena uscito il mio thriller il marinaio delle antille ambientato ai tempi del terzo light beh amadeus sanremo 2022 io nulla so di amadeus e mi scuso nulla so neanche di sanremo non so nulla perché io benché abbia quasi 82 anni non l'ho mai visto sanremo capito io non l'ho mai visto so che cos'è uno spettacolo musicale uno spettacolo musicale dove tutti cantano tutti cantano tutti cantano felici e contenti al festival di sanremo tutti cantano tutti cantano tutti felici e contenti altro non so io non l'ho mai visto il festival di sanremo che sia chiaro perché abbia già circa 82 anni sono nato nel febbraio del 1940 quindi c'è 81 di anni ma fa poche settimane diventano 82 allora se sanremo è un luogo dove tutti cantano ogni anno si fa sanremo amadeus amadeus qua dice come sarà sanremo 2022 io posso pure pensare che che un festival dove tutti cantano tutti cantano sia prevalentemente dedicato alla gente ospedalizzata ospedalizzata oppure alla gente che vive nelle case di riposo e sono tante le persone che vivono nelle case di riposo e anche coloro che sono ospedalizzati se facciamo il conto di della gente che attualmente sta in un ospedale per un motivo per l'altro per un motivo per un altro negli ospedali sono milioni di persone ma uno c'è un incidente stradale in altro c'è un incidente civile in altro viene operato poi nelle case di riposo ci sono milioni di persone e certo che l'audience magari è alto magari è alto l'audience e per forza se uno sta in una casa di riposo o è ospedalizzato che cosa può fare e guarda il festival di sanremo queste sono le mie considerazioni io per esempio che ancora non ci sono in una casa di riposo e che ringraziando il dio non sono mai stato ospedalizzato e io non ho mai visto il festival di sanremo capito fatemi sapere voi quella situazione perché può darsi che io mi sbaglio e può darsi che io mi sbagli può darsi che io mi sbagli perché anche se ho 82 anni io il festival di sanremo non l'ho mai visto capito io so soltanto che è una festività è una ricorrenza dove tutti cantano tutti cantano tutti cantano tutti cantano con microfono in bocca tutti cantano tutti felici e contenti e vabbè ma io penso che l'audience l'audience sarà dovuto al fatto che milioni e milioni di persone ovviamente sono ospedalizzate lungo tutto l'arco di un anno e poi ci sono milioni e milioni di persone che stanno nelle case di riposo che può fare uno si sta a ci stanno pure i carcelati è che sia chiaro pure i carcelati è che sono tanti pure quelli sono vabbè cari amici io qua mi fermo ho fatto le mie personali considerazioni su amadeus e il festival di sanremo 2022 io ho detto la mia adesso voi dite liberamente la vostra va bene cari amici e a tutti tanti cari saluti da sti